Dopo un 2021 in ripresa la componentistica autofrena gli entusiasmi troppe le incognite dell'anno in corso, in regione siglato un patto sul lavoro per la Torino-Lione. Buonasera, seconda edizione del nostro telegiornale per il 2022. Le stime della produzione italiana di autoveicoli vedono un preoccupante meno 8%, lo rivela l'osservatorio per la componentistica automotive di Anfia e Camera di Commercio. E anche gli artigiani lamentano una situazione preoccupante. Caterina Cannavà. Non devono illudere le cifre relative al 2021, aumento di fatturato, domanda, produzione, sono frutto del rimbalzo dopo il crollo dell'anno precedente, segnato dall'impatto del Covid che ha bloccato i consumi. Oggi i dati preoccupano, lo rileva l'osservatorio per la componentistica automotive di Anfia e Camera di Commercio. Per il 2022, infatti, le stime della produzione italiana di autoveicoli vedono un preoccupante meno 8% e delle 2200 imprese, di cui 733 in Piemonte, 3 su 4 sono ancora legate alla filiera del motore tradizionale, benzina o diesel, che sarà fermato su decisione europea nel 2035. Il settore chiede dunque al Governo sostegno nel percorso di cambiamento. Il compito dei ministri, anche piemontesi, sarà forse quello di, speriamo di poter avere attenzione al settore e accelerare soprattutto, perché comunque l'impatto della transizione tecnologica, non solo economica, arriverà e sarà sempre più forte. Sperando che prima di tutto arrivi l'intervento sull'energia, che in termini di contingenza è un problema trasversale a tutta l'economia del Paese e alla manifattura in particolare. E poi di proseguire sugli incentivi all'offerta e alla domanda per la transizione del settore. Anche gli artigiani lamentano una situazione allarmante. Sono circa 900.000 le aziende che rischiano di avere grandi difficoltà, con 3 milioni e mezzo di laboratori a rischio. In Piemonte sono morte 1.000 imprese artigiane su 116.000 nell'ultimo anno, la prospettiva è di alcune migliaia di nuovi disoccupati, se il Governo non interverrà e non solo sulla bolletta energetica. Un abbattimento fiscale importante, ma più che altro uno snellimento burocratico. Noi stiamo per affrontare una questione legata alla transizione energetica che è fermata dalla burocrazia.